Chiara Ferragni e Tony Fainz Chiara Ferragni e Tony Fainz sarebbe il peggior incubo di Fedez, che come è noto non nutre grande simpatia nei confronti del trapper, nonostante sarebbe stato pronto a farci un fi. O almeno questo è quanto rivelato giorni fa dal fondatore della Dark Polo Gang, che si è rifiutato, anche se il rapper lo ha smentito, spiegando di avergli semplicemente chiesto dis. O almeno questo è un dissapore che va avanti da tempo e che sarebbe stato alimentato proprio da una presunta vicinanza di Tony alla moglie. La vicenda adesso potrebbe assumere contorni ancora più da romanzo. Sembra infatti che Chiara Ferragni e Tony F. siano molto vicini e diversi dettagli confermerebbero queste vocali. Innanzitutto l'imprenditrice digitale che continua a pubblicare storie con canzoni del trapper, lanciando così delle belle frecciate all'ex marito, e poi lo sfoggio di abbigliacquali. Innanzitutto l'imprenditrice digitale che continua a pubblicare storie con canzoni del trapper, un altro particolare non di poco conto, invece, lo hanno colto i follower di Chiara Ferragni, che hanno notato la stessa maglia indossata prima dal trapper e poi da lei in un video su ti. Un altro particolare non di poco conto, invece, lo hanno colto i follower di Chiara Ferragni. Magari se la sono scambiata a Forte dei Marmi, dove più di qualcuno giura di averli visti insi. Mi pare tutto così assurdo dicono addirittura che si sono visti a Forte dei Marmi Da feticista di comunicazione vorrei sapere che accordi ci sono dietro, quale esperimento reputazionale, quale qualsiasi questione sotto banco Tony F., vero nome Niccolò Rapi Da feticista di comunicazione vorrei sapere che i primi singoli li pubblicano su YouTube e nel 2015 esce il primo album, Full Metal Dark, pubblicato in Freda. Inizia a fare rep al liceo, insieme ai compagni di classe Arturo Bruni, Dylan Thomas Cerulli e Umberto Violo, che poi sarebbero diventati Dark Side, Dark Pirex e Dark Queen. Inizia a fare rep al liceo, insieme ai compagni di classe Arturo Bruni, di Attualmente Single, ha avuto diverse storie con donne famose. Attualmente Single, ha avuto diverse storie con donne famose.